eccoci eccoci ancora insieme per la nostra università popolare momento attesissimo quello con paolo corsiglia imprenditore agricolo buongiorno corsiglia buongiorno berti buongiorno sui telespettatori allora oggi la vedo circondato da olivi quindi ci spiegherà come ci si prende cura come si portano ma anche come anzi qual è la messa di mora giusto sì certamente ormai siamo stagione ovviamente l'olivo ora va potato per la produzione estiva 2024 vanno levante la parte interna per aprile queste sono piante piccoline che poi devono essere messa di mora vi spiegherò anche poi perché l'olivo è una pianta che ha bisogno di un drenaggio importante perché gli ristaggiano di umidità non gli fanno bene anzi fanno morire la pianta vanno portate sono le formici ma vanno levante la parte interna per aprirlo per dare ossigeno anche all'apparato vegetativo e di conseguenza dobbiamo pensare che l'olivo è la nostra è il nostro oro giallo della nostra liguria tutti quelli che ce lo invidiano da tutta la produzione che la di altissima qualità dalla taggiasca di imperia arrivare alla lavagnina del nostro tiguglio e ovviamente stessa cultivar con due nomi diverse ma praticamente caratteristiche organolettiche uguale l'olivo ha come dicevo prima ha bisogno di tanto drenaggio quindi ricordate quando mettete a dimora un olivo dovete mettere sotto o un vespaio di pietre quindi dando la possibilità di drenare il terreno o chi non lo avesse perché ovviamente le pietre sono più facili da reperire però si può utilizzare dell'argilla espansa che fa sì che l'apparato radicale sia sempre in un substrato e in realtà poco umida perché l'olivo non ha bisogno di umidità infatti vedete che ovviamente l'estate noi abbiamo delle problematiche di acqua perché c'è una siccità in maniera preponderante ma chi lo mette a dimora per un giardino perché l'olivo simbolo di pace e quant'altro non non ha bisogno di essere non vuole essere innaffiato tutti i giorni perché tante tante realtà lo mettono nei prati verti e a volte qualcuno muore per il problema del risaglio di umidità l'olivo è una pianta che in produzione viene inserita anche un impollinatore perché l'impollinatore dà l'opportunità maggiore di poter fecondare i fiori pensate che l'un per cento dei fiori sarebbe un altissima allegagione di frutti quindi l'olivo fa tantissimi fiori e tantissimi cadono e la cascola dei fiori viene fatta appena appena c'è stata la legagione e l'olivo è una pianta che va messa come dicevo prima in terreni molto drenanti e una produzione che può essere messa o in filari o a macchia di leopardo a secondo dei nostri appezzamenti di terreno perché ovviamente noi dobbiamo pensare che non abbiamo filari e non abbiamo terreni o fasce o appezzamenti di terreno dir si voglia molto larghi quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo la densità che si mette di solito 4 5 metri uno dall'altro quindi è una pianta molto versatile una pianta che nei nostri crinali nei nostri terrazzamenti ci vive molto bene e possiamo vedere che qua dietro alle mie spalle ora qui ci sono delle piante piccole che sono quelle che vanno di solito vengono messe per la produzione ma dietro vi posso far vedere delle piante secolari che sono state capitozzate e messe messe al nei vasi per poi poter allestire e abbellire una pianta molto semplice una pianta una pianta che sta molto facile come essere curata ovviamente l'unico problema è un po il freddo ma ormai freddo non ne viene più perché anche oggi saremo a 15 gradi qua da noi in fronte a lavorare speriamo corsiglia speriamo non so se lei se lei ha della parte meteo ha delle informazioni mi pare che oggi è strano va bene oggi va bene dico speriamo perché ancora lunga allora oggi sono leggerate la merla allora quali sono le indicazioni che possiamo dare ai nostri telespettatori quindi allora l'olivo dove deco proprio simbolo della pace quindi dovete metterlo nei vostri giardini perché è una pianta bellissima anche vicino a casa non è non viene troppo invadente va potato tutti gli anni chi dice che l'olivo va potato tutti gli anni mi raccomando la parte più importante è il drenaggio perché deve esserci sotto all'apparato radicale sempre asciutto la pianta bisogna di essere bagnata ma poi deve asciugare quindi il vespaio di pietra mettete sotto una diecina di centimetri di pietra che così se sarà dell'acqua va a scendere in questa di questo vespaio di pietra o se no utilizzate la pila molto semplice il terreno deve essere deve essere messo sopra la parte adesso su questo pane di terra sul sul nostro vaso come vi faccio vedere va alzato tanto così perché essendo poi il terreno attorno un terreno molto morbido va a scendere ricordatevi di fare una concimazione fra un mese di 20 giorni un mese con stallattico utilizzate anche lì mi raccomando pronto di qualità non prendete quella terra che sembra che c'è scritto stallattico ma è un terriccio ma non va bene utilizzate un prodotto professionale quindi uno stallattico pellettato cosa vuol dire pellettato pellettato modello bricchetto tipo il pellet che usate nelle stufe a pellet quindi ha una granometria di quel genere lì o se no potete usare concimi chimici però ovviamente ci sono questi concimi qua organici che forse sono ancora meglio vanno chi fa la produzione quindi le aziende agricole durante l'estate vanno irrorati bagnati per avere una maggiore produttività però voi che li mettete in giardino o nei vostri anche nel coso nei vasi ovviamente nei vasi vanno bagnati perché sennò andrebbero a morire si fa una copertura magari rameica in inverno per abbattere un po il la questione funginia però di solito una pianta molto rustica molto semplice da poter coltivare tenere perché vedete poi i nostri appezzamenti di terreno le nostre colline sono piene di olivi ecco e la potatura la potatura va fatta adesso ma quindi adesso io non ho forbici qua va levato tutta la parte interna per poterlo aprire ovviamente a secondo delle varie tipi di produzione di chi vuole fare la produzione adesso è in voga al vaso policonico però chi invece lo tiene come come da da bellezza da da ornamento va levato la parte interna perché ovviamente quando adesso andrà a sviluppare in primavera da dato la stagione che ormai mi pare eminente facevamo una ricognizione qua con adriano prima e abbiamo nel prato pieno di di margherite fiorite a gennaio non ci sono mai state ecco quindi d'ora in avanti però non anticipiamo troppo la concimazione perché il problema è che se fosse una gelata una gelata a primaverina potrebbe danneggiare l'apparato vegetativo l'uovo che cos'è che fa male all'olivo l'umidità per primis l'apparato il problema grosso dell'olivo che quando vengono messi nei tipo nei prati verdi delle delle case in mezzo ai cosi dove ci sono i prati che devono essere errati un giorno sì e un giorno no di solito anche in piena estate quello è un problema infatti ogni tanto qualche d'uno nei prati delle delle ville può morire per la questione della dell'umidità una pianta che ha tanto bisogno di di secco ovviamente se andiamo in estate in piena estate quando quando viene 40 50 gradi e chi deve produrre ha bisogno di una bagnatura di emergenza ecco questo sicuramente bene bene grazie a paolo corsiglia come sempre ringraziamo adriano ogni settimana sempre più bravo si è ormai è avezzo glielo rubiamo corsiglia e va bene adesso ve lo presto volentieri ci mancherebbe altro ve lo mando grazie grazie a lei e sui telespiratori buona giornata buona giornata a presto